Con la pubblicazione della graduatoria finale del concorso unico regionale per infermieri, la Puglia è pronta ad assumere 566 nuovi infermieri a tempo indeterminato destinati a rafforzare i servizi sanitari dell'intera regione. Questi si aggiungono ad altre 566 unità provenienti dalla graduatoria di mobilità intra- ed extra-regionale già deliberata in precedenza dalla ASLA di Bari. Il numero è destinato a crescere sulla base dei fabbisogni espressi da ogni singola azienda sanitaria. La graduatoria finale del concorso comprende infatti un numero complessivo di 4282 infermieri che hanno superato le prove e ora attendono la nomina dei vincitori. D'ora in poi la graduatoria potrà essere subito utilizzata per l'assegnazione dei posti a tempo indeterminato per tutta la regione, ha detto il direttore generale dell'ASLA di Bari Antonio Sanguedolce, Chi è entrato in graduatoria ora avrà la possibilità di lavorare per la salute e il benessere dei pugliesi. Il concorso, che ha visto il coinvolgimento di quasi 17.000 partecipanti, è stato il primo in Italia a svolgersi durante il periodo pandemico con l'obbligo del Green Pass e a concludersi in meno di otto mesi. Grazie a questo concorso, ha aggiunto il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, Rafforziamo la sanità pubblica con nuove energie determinate ad operare nelle nostre strutture al servizio dei cittadini elevando la qualità dell'assistenza sanitaria.